dentro a destra c'è Max di schermo quindi saluto Max di saluto vediamo un po' ragazzi salutate ma arriviamo in Italia il popolo di Galladiano saluta il giro d'Italia eccolo lì un atelio di San Gato che la chiesa è dentro c'è un presente per quanto è stato e un'altra parte è molto incredibile tutta la zona un po' che si tratta la zona che è stato bellissimo bellissimo il giro d'Italia è stato completo quello trappo di San Gito 3 minuti e 34 in cui ha prodotto 8,74 va per il giro 3 minuti e 3 minuti e 30 20 minuti in cui non fa il giro d'Italia nel centro 1900 a giro d'Italia di 40 minuti su parte il 1.8 come si sta accendo come facendo Marco una volta lo fa il giro numeri solamente a quanto la banca di 15 centimita l'infiata l'infiata l'Europa 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 tutto sia come 1700 passato il gruppo sempre dilatato da Pippo Ganna figlia di Nerva adesso con 22 finale 3 alla conclusione non è fina veramente per l'ultimo sprint quello che vale solo per il seguibile buona la Magna Rota 3, 2 e 1 e poi ci vediamo tutti insieme la salita finale verso il saltare d'Europa quella mega bicicletta con Marco Bantanti contando l'impresa del 1999 25 anni fa ricordiamo ancora una volta i passati proprio d'Europa la prima volta nel 1963 e poi ci vediamo la prima volta nel 2003 e poi ci vediamo il secondo punto di vista oggi potrebbe andare bene anche di Gareth Thomas Grazie a tutti